Allora, breve riflessione che riguarda tutti coloro, non pochi, che dopo aver vissuto una relazione tossica temono che la successiva relazione affettiva alla quale andranno incontro avrà la stessa natura della precedente. Una riflessione che da una parte lascia trasparire, come dire, comprensibilmente un'ansia post-traumatica, cioè quella tipica paura di coloro che, avendo fatto un incidente, temono anche più del ragionevole, viene da dire, di poter incorrere di nuovo in un incidente simile. D'altra parte, questa angoscia lascia trasparire una certa sfiducia nelle proprie capacità di poter gestire un'eventuale nuova relazione problematica. Ci torneremo nel prossimo video al tema della responsabilizzazione della persona rispetto alla questione relazionale, ma già da qui si comprende quanto possa essere il danno legato all'idea che noi non si abbia le mani sul volante delle nostre vite e che in fondo, in definitiva, le relazioni tossiche siano totalmente sovrapponibili ad incidenti casuali, il che lascia una sorta di terribile visione di noi in balia degli eventi, di un mondo totalmente ingovernabile e figlio degli imperscrutabili disegni di Dio o del destino. Ma ci torneremo alla prossima. Qui cosa voglio dire? È improbabile che una seconda relazione problematica sia gestita in maniera del tutto identica alla precedente, a meno che davvero non si riesca a far tesoro di nulla, di nessuna esperienza o nozione. Per dirla in termini più tecnici, direi che tanto più non sono state operate certe riflessioni, quanto più è probabile che lo schema si ripeta. Quali riflessioni? Perché la relazione tossica esprima davvero i suoi effetti nefasti, occorre che vi siano presupposti di idealizzazione e svalutazione dei rischi e che ciò venga mosso da un meccanismo di angoscia di perdita. In fondo, credetemi, si tratta sempre della buona vecchia angoscia di morte. Cosa intendo? Che se noi temiamo l'assenza, l'abbandono o l'addio dell'altro come un nostro annichilimento, come il termine del nostro valore, se la persona che se ne va ci serviva per farci sentire vivi e il suo abbandono riecheggia la fine della vita o di una vita che abbia senso, beh, allora saremo sempre tenuti in scacco, sotto scacco, dalla presenza altrui. E quando l'altra persona capisce di essere così indispensabile, fidatemi che in buono malafede ne approfitterà perché sa che non c'è un perimetro oltre il quale non ha il permesso di spingersi. Non è una questione di cattiveria, è semplice e basilare educazione. Chi ha dei figli, chi ha anche solo degli animali, sa benissimo cosa accade quando non si pongono dei limiti. Ma se non c'è un perimetro, se non c'è una forma precisa e lasciate che siano gli altri a determinare la vostra forma, allora tutto può accadere di negativo. Alla prossima!